Continua l'ondata di maltempo che da due giorni sta colpendo la Puglia, in particolare la provincia di Foggia. Nelle prime ore della giornata, acqua mista a neve caduta in alcune zone del Gargano e del subappennino Dauno. In particolare il nevischio è caduto fra San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Alberona. Sempre questa mattina una violenta grandinata si è abbattuta nelle zone ofantine fra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per gli allagamenti in box scantinati. Temperature rigide sono state registrate anche nelle zone più alte del Gargano, in particolare a Monte Sant'Angelo, dove alle 8 la colonina di Mercurio ha toccato lo zero. Nessun miglioramento è previsto, per le prossime ore il maltempo ci accompagnerà fino a venerdì con pioggia insistenti e con neve anche a bassa quota in Molise e Basilicata. Insomma l'inverno è arrivato con largo anticipo, non resta che attrezzarsi.